Sindaco Enzo Ferrandino, siamo sul cantiere che ha dato il via ai lavori per la rotatoria di Sant'Anna. Sì, stamattina stiamo facendo un sopralluogo con le maestranze, sono in corso i lavori per realizzare le bocche di lupo che dovranno raccogliere l'acqua piovana qui sul lato destro del tratto stradario. Si sono trovati dei tubi dell'acquedotto, sono in attesa degli operai dell'acquedotto per proseguire con la lavorazione e con la realizzazione di questa infrastruttura che ricordo è un'infrastruttura di cui ce n'è molto bisogno per andare a dissolvere il traffico di questo incrocio e renderlo maggiormente sicuro per gli utenti che quotidianamente in maniera numerosa e impattante finisce per utilizzare questa zona del nostro territorio. Ecco, molti si sono dispiaciuti per l'eliminazione del pino che era qui esistente, però c'è qualcosa da chiarire? Allora, io sono non dispiaciuto di più per la rimozione dell'albero che insisteva qui a margine della strada perché come tutti quanti sapete come amministrazione insieme agli amici dell'amministrazione ci siamo dimostrati in questi anni molto sensibili al tema ambientale e alla tutela del nostro verde tant'è vero come amministrazione in questi sette anni abbiamo un saldo di più mille alberi rispetto anche agli alberi che sono stati abbattuti. L'albero in questione era stato anche vagliato da un agronomo il quale aveva evidenziato che risultava essere affetto comunque da una patologia che da qui a qualche tempo ne avrebbe cagionato la morte, ma comunque bisogna essere onesti nel dire che l'albero per come era posizionato oggettivamente non avrebbe consentito la realizzazione dell'opera e della rotatoria capitava proprio a margine, a metà tra la corsia e il margine della zona in cui poi bisogna girarvi intorno nell'ambito dell'incrucio e intralciava non solo fisicamente ma anche da un punto di vista visivo, non garantendo quindi le condizioni di sicurezza disegnare una rotatoria non è un atto che in maniera empirica si può fare spostandolo a suo piacimento il progettista che abbiamo coinvolto ha utilizzato una tecnica progettuale consolidata che è la medesima che è stata utilizzata nell'altro incrucio dove c'erano una volta i semafori per cui qui verrà realizzata una rotatoria definita compatta dal codice della strada che avrà un diametro di circa 25 metri quadri e il posizionamento dei vari elementi che caratterizzano il disimpegno dell'incrocio sono espressamente previsti dalla norma tecnica e in questo modo è stata realizzata se vogliamo un incrocio che funzioni meglio e che dia maggiore garanzia all'utenza purtroppo l'albero andava rimosso dico purtroppo lo sottolineo con il peso morale che comunque mi sento addosso in relazione a un albero che sicuramente da un punto di vista affettivo era molto considerato un po' da tutti gli schitani specialmente dai cittadini della zona ripeto ripiantumeremo 10 alberi della stessa specie non proprio il pino domestico che abbiamo visto è più vulnerabile a quelle che possono essere patologie fitosanitarie ma 10 pini di Aleppo, i pini marittimi che abbiamo visto invece che resistono meglio e che si ammalano molto più difficilmente grazie